Siamo con Saro Grillo del gruppo Caffo e la nostra domanda è come nasce questa azienda? È un'azienda calabrese, anche se poi l'origine è di Santa Venerina di Catania e quindi Sicilia, alla quarta generazione, gestita da un giovane imprenditore di 36 anni, ancora ovviamente con il padre, ma da appena sette anni amministratore unico. È un'azienda che ha fatto la sua fortuna, nella fase iniziale produceva alcol, poi prodotto Replay, finché circa 30 anni fa ha avuto l'idea di fare un amaro, un vecchio amaro del capo. È un prodotto, un amaro composto da 29 erbe diverse, 35 gradi, e il prodotto di punta dell'azienda che ha avuto l'ardire di inventarsi un prodotto da servire ghiacciato. I liquori mediamente si consumano molto di più nel periodo invernale, come adesso, Caffo il momento di punta dei consumi lo ha nel periodo estivo. Perché? Perché questo prodotto sembra di al meglio di sé servito ghiacciato, o nell'edizione invernale servito bollente. Tant'è che diverse aziende, oggi leader di mercato, tendono a, per certi versi, copiare questa moda. Quindi ci ha destagionalizzato. Il prodotto co-leader dell'azienda è un liquore di liquirizia. Sapete che in Calabria è il prodotto, la pianta cresce naturale, quindi non è merto nostro se viene riconosciuto come la migliore liquirizia a livello mondiale, ma c'è il clima, il terreno utile allo scopo per far sviluppare la liquirizia cordara. Da questo quindi è nata l'azienda pian piano si è ampliata con il prodotto leader a mano del capo, vecchio a mano del capo, e il prodotto co-leader il liquore di liquirizia. Il liquore di liquirizia è stato presentato a Vinitaly 98, a mo' di testa se volete, era l'idea di fare un prodotto da aeroboristeria, mentre invece poi Vinitaly lo definì il primo digestivo a livello mondiale, perché la liquirizia di per sé aiuta a digerire e il liquore, il prodotto che ne deriva, è un digestivo naturale, particolarmente indicato per un target giovanile, femminile, spesso gentastemia. Oggi ha qualcosa come, io li chiamo pseudo competitor, senza offesa, ma ovviamente la nostra liquirizia in purezza è diventata un prodotto di larga diffusione, ci sono qualcosa come 98 aziende in Italia che tentano di fare un prodotto replay, però ovviamente il nostro rimane, pur essendo un prodotto di consumo di nicchia, non è di larghissimo consumo. Quindi poi arriviamo alle grappe, quindi l'obiettivo di questa manifestazione è di farci conoscere anche in un settore, se volete per certi versi sconosciuto, il Sud Italia non è famoso per le grappe, ma Caffo ha pensato bene, a parte grappa di cirò, grappa Caffo, due tipiche caratterizzazioni del nostro Sud, un'onesta grappa a 42 gradi con il peperoncino dentro, voi sapete che è l'emblema della nostra regione, oppure un bastoncino di liquirizia. Ambedue a 42 gradi, una c'è la base alcolica con un'esplosione piccante con il peperoncino, invece l'altra è ammorbidita, ammorbidisce il gusto, quindi tende anche a non far sentire la gradazione alcolica. Però sono delle tipicità che lasciano tempo, voglio dire, non possiamo dire grappa calabresi, Caffo quindi è amaro dal capo, liquirizia uguale a Calabria, agrumi Sud Italia, quindi abbiamo anche limoncino e altro, però le grappa sono a nord Italia. Questo giovane imprenditore, con la direzione, ha ritenuto opportuno acquistare una distilleria udine, ha lasciato il nome dell'azienda, distilleria Friulia, e quindi si è profuso nella produzione, quindi ha elaborato le ricette già in essere, ha sviluppato oggi 18 codici prodotti diversi. Il prodotto di punta di base di questa azienda è il Schneab del Focolar, un 45 gradi caratterizzante proprio il territorio Friuli-Udine, e poi tutta una serie di monovitigni con una novità, un nome di, se volete, un nome di fantasia, Fri, che vorrebbe essere l'abbreviativo di Friuli, oppure di Fri, Spirito Libero, un prodotto con una novità sul mercato nazionale. lo presentiamo in purezza, nel senso che viene rielaborato a fine operazione per pulirlo della presenza infinitesimale di metanolo, che, come sapete, è la produzione, il riscontro naturale della lavorazione delle vinacce. Su questo la decliniamo in nove tipi diversi, dallo Chardonnay, Pinot Grigio, Cavernet, Durella, Merlot, questo è un orefosco, poi c'è un prosecco, il milioturgau, per poi presentare anche un'invecchiata, visto che oggi il mercato richiede qualcosa di diverso, questo è un invecchiato 12 mesi, e sul prodotto di base della distilleria di Udine abbiamo oggi presentato da qualche mese una elegante confezione con una stravecchia schniappe, quindi prodotto di base della distilleria in Friuli, con un invecchiamento a 18 mesi. Qual è stata l'evoluzione della sua azienda negli anni? Diciamo che l'azienda nasce a carattere familiare, nel 98, per fare un esempio, quindi una distribuzione a carattere regionale, e a Macchia dell'Europardo in Italia, visto che partecipiamo a tutte le fiere nazionali ed internazionali. In maggio 99, diciamo che il dicembre 98, abbiamo chiuso il fatturato a 3 miliardi di vecchie lire totale azienda, e a maggio 99 avevamo qualcosa come 87 clienti fuori regione Calabria, quella era la nostra ricchezza. Quest'anno abbiamo chiuso a 10 milioni di euro, abbiamo 3 stabilimenti e oltre 13 mila clienti, quindi penso che in un panorama economico, critico, noi di questo proprio assolutamente non abbiamo risentito, cresciamo a due cifre anno su anno, e ovviamente stiamo creando la rete commerciale a livello nazionale in maniera capillare. La ringraziamo, buona serata.